E' disponibile l'app ECOVID Sinfonia della Regione Campania, pensata per consentire ai cittadini di ricevere direttamente sul proprio smartphone l'esito del tampone molecolare e test sierologico hashtag COVID-19. L'utilizzo è facile e veloce, in pochi e semplici passaggi sarà possibile visionare il risultato del test, previa verifica del numero di telefono cellulare e l'inserimento della stringa numerica riportata sul retro della propria tessera sanitaria. E' possibile scaricare l'app fin da subito per tutti i dispositivi più diffusi, per i dispositivi Android e per i dispositivi Apple iOS.